La vostra sfuggente signora delle cameglie, la Cleopatra e imperatrice che tra ovazioni ha perfino folgorato l'autore Anton Chekhov, tutte indimenticabili eroine. Povere donne, sì, tutte quelle povere donne mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre io mi ingegno di farle capire a tutti quelli che mi ascoltano, sono loro che ad agio ad agio hanno finito per confortare me. E le frugo, non per mania di sofferenza, ma perché... Eppure siete ancora civette, vi ungete, vi tingete malamente gli ultimi capelli, portate finte trecce, due ricciolini finti, tinti di un altro colore, avete il vestito delle feste. Grazie Laura che è un'attrice meravigliosa ed è un'amica e ho avuto la gioia di condividere con lei il palcoscenico e dei momenti davvero speciali e topici che costellano negli anni sia umani che artistici. Ecco, Anna Della Rosa vince il trentasettesimo premio d'Uge. Così più o meno arei incominzato, quindi in diretta traducendo l'enfoglio shakespeariano arei continuato.